Sono drammatici i numeri che emergono anche dal fronte dell'occupazione pubblica in quella che ormai è universalmente nota come la crisi peggiore dopo quella del 1929. Questa mattina la funzione pubblica della CGL ha tirato le somme di un anno di vertenze e lanciato un monito per il futuro. Nel nuovo anno la busta paga dei dipendenti pubblici diminuirà ulteriormente 200 euro in meno sullo stipendio, cifre che pesano paurosamente soprattutto nelle famiglie monoreddito. Insomma l'allarme lanciato dal sindacato è chiaro, i lavori pubblici sono sulla soglia della povertà. Noi abbiamo già fatto dal nostro report sul lavoro pubblico che i lavoratori hanno perso rispetto al valore delle loro retribuzioni dal 1 gennaio 2014. Sarà come quello del 2002, lo stesso valore, e cioè noi calcoliamo 200 euro in meno sullo stipendio. E questo deriva proprio dal mancato rinnovo contrattuale e dalla perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni. Lo slogan del sindacato del 2014 sarà quello di contratti subito. Per arginare la crisi secondo la CGL è necessaria una rivoluzione del settore pubblico per fare ripartire il settore lasciando spazio ai giovani. Il sindacato si appella per questo al ministro D'Alia, invocando tra l'altro la stabilizzazione dei precari. Insomma anche sul fronte dell'impiego pubblico nonostante sia periodo di festa c'è decisamente poco da festeggiare. Noi pensiamo che al contrario invece dare l'infa vitale alla pubblica amministrazione potrà contribuire a uscire da questa crisi. Bisogna assolutamente uscire nel 2014 perché c'è un'emergenza, un disagio sociale che probabilmente chi sta seduto nei posti di potere non lo vede, non sta a contatto con le persone.